E cosa ti ha detto Franceschini? Franceschini ha detto due cose importanti. La prima, un sì convinto al governo Draghi. Ed è la prima voce autorevole del Partito Democratico dopo ore di perplessità, di dubbi, di dichiarazioni critiche, non ultima quella del vice segretario Orlando. Quindi ha detto sì, noi siamo un partito dell'interesse nazionale come nella storia della sinistra e in questo momento non possiamo non farci carico della responsabilità seguendo le indicazioni del Capo dello Stato. Primo punto. Secondo punto, ha fatto un appello ai 5 Stelle dicendo sostenete Draghi anche voi e troviamo le ragioni per proseguire nella nostra alleanza anche nel nuovo contesto. Chiaramente, legittimamente dicendo abbiamo fatto bene fin qui, il governo ha funzionato, questo chiaramente è l'opinione di Franceschini e c'è un passaggio in cui dice sono certo che sarà Conte il primo a dire che l'operazione Draghi è necessaria. Il che tradotto significa questo, a mio giudizio. In questo momento c'è un grande travaglio nei 5 Stelle, più esplicito le posizioni di aperta contrarietà di Di Battista, più silenzioso quello di Di Maio che con un movimento in così grandi difficoltà non può esporsi per un sì, eccetera. È trapelata una posizione di Grillo. È chiaro che la voce, se Conte, colui che ha governato finora, che ha tenuto tutti insieme, il leader del centro-sinistra, finora dicesse un qualcosa avrebbe il potere di orientare e secondo me il PD pensa, questo non è nell'intervista, è la mia malizia, che l'idea è di coinvolgerlo anche nel nuovo governo. No, ecco, cioè se Conte facesse il primo... Proprio su questo è stato fatto trapelare dalle fonti dei 5 Stelle che Conte non è disponibile a entrare nel governo. Certo. Anche perché probabilmente c'è una...